allora oggi è il primo aprile del 2021 questa è la seconda parte del video di prima da un'altra postazione dove vi faccio vedere che il caligo il suo grande ritorno dopo un mese sta avvolgendo completamente riva trigoso e parte di sestri levante eccolo vedete arrivava in su ai monti e la nella conca dove c'è il mare è molto più denso eccolo lì